Salve a tutti e benvenuti a 5 minuti con l'Accademia Italiana di Endodonzia. Oggi vi parlerò degli effetti degli irriganti canalari sulle proprietà meccaniche dei denti trattati endodonticamente. Come sapete moltissimi sono gli irriganti ad oggi in commercio, ma nessun irrigante è da considerarsi ideale. Una bellissima revisione del 2020 ha messo in evidenza gli effetti degli irriganti sulle proprietà meccaniche dei denti trattati endodonticamente. Sappiamo che la terapia canalare è costituita da più fasi, una fase di alesaggio meccanico e una fase di irrigazione. Entrambi le fasi sono estremamente necessarie per rimuovere l'eventuale biofilm che è adeso alle pareti dentinali. Come sappiamo l'irrigante più utilizzato è l'ipoclorito di sodio che, secondo gli autori della revisione, ha mostrato un effetto negativo sulle proprietà meccaniche della dentina canalare. Più che ovviamente sono maggiori, all'aumento della sua concentrazione e del tempo di utilizzo. L'aclorexidina ha mostrato anch'essa un effetto negativo sulle proprietà della dentina, anche in protocolli in vitro dove i tempi di utilizzo sono stati molto brevi. Anche l'uso delle DTA è risultato essere problematico, infatti ad alte concentrazioni, 15-17%, dovrebbe essere limitato a 2 minuti e soprattutto dovrebbe essere utilizzato come step finale dopo la preparazione chemomeccanica del calane radicolare per limitarne l'impatto negativo. L'ipoclorito di sodio è stato inoltre capace di alterare la microdurezza alla sola concentrazione dell'1%, così allo 0,5% ha alterato la resistenza alla flessione e allo 0,6% è capace di alterare il modulo elastico della dentina. Gli autori concludono consigliando di aumentare le concentrazioni di irriganti nel caso di trattamenti di elementi necrotici per migliorare l'eradicazione batterica che invece risulta meno necessaria nel trattamento del dente vitale. Inoltre è, secondo gli autori, necessario conoscere le caratteristiche di ogni irrigante proprio per decidere qual è più adatto alla nostra terapia canalare. Vi rimando per ulteriori dettagli alla revisione del 2020. Grazie e a presto con l'Accademia con 5 minuti con l'Accademia Italiana di Endodonzia.